Ciao amici, siamo di nuovo qua con Marilu di Italian Country Family. Oggi vediamo un nuovo passettino per le line dance che viene chiamato normalmente passo ciaccia o passo shuffle o addirittura a volte viene chiamato triple step. È un passo molto frequente in tutti i balli perché il ciaccia lo conoscete più o meno tutti. Vediamo come eseguire un passo ciaccia in avanti di destro. Quindi partendo col piede destro, porto avanti il piede destro, unisco il sinistro di fianco al destro e vado nuovamente avanti col destro. I tempi del passo ciaccia, vediamoli un attimo, attenzione, 7 e 8, 1 e 2. Se devo seguire con un passo ciaccia di sinistro, ovviamente partirò di sinistro, 1 e 2. Il passo ciaccia oltre che in avanti può essere eseguito anche all'indietro, quindi se devo eseguire un passo ciaccia all'indietro di destro, parto sempre ovviamente col destro, indietro, unisco indietro. Di sinistro, indietro, unisco indietro. Adesso lo guardiamo un attimo visto di fianco, ok? Partendo col piede destro, quindi farò un ciaccia avanti di destro seguito da un ciaccia avanti di sinistro. Spesso nelle coreografie, come vi ho detto, viene chiamato passo shuffle, ma è sempre un ciaccia. Vediamolo un attimo, attenzione, 7 e 8, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Posso anche eseguirlo all'indietro, come abbiamo detto, quindi partendo in questo caso col destro, se è un passo destro ciaccia indietro, faremo in questo modo, 1 e 2 seguito da un sinistro, 3 e 4. Questo è un passo ciaccia. È molto frequente nelle line des, ma anche nei balli di coppia. È un passo semplice da eseguire che viene utilizzato, un po' più enfatizzato, anche sulla polca. Nel senso che tutte le polche hanno comunque come base un passo ciaccia, che viene, come vi dicevo, un po' galoppato ed enfatizzato, proprio per star lì a simulare una cavalcata. Quindi il passo ciaccia nelle polche verrà eseguito in questo modo, 1 e 2, 3 e 4, 1 e 2, 3 e 4, 1 e 2, 3 e 4. Come avete visto può anche essere eseguito lateralmente, quindi se devo fare un passo ciaccia verso destra, parto lateralmente col piede destro, 1 e 2, se lo devo fare a sinistra, 1 e 2. Allora, l'abbiamo visto un attimo cavalcato per la polca, 1 e 2, 3 e 4, 1 e 2, 3 e 4. Se invece è un ritmo di musica molto più lento, che non è una polca, ma è semplicemente un ritmo di ciaccia, si farà in maniera molto più fluida, molto più liscia, quindi 1 e 2, 3 e 4, 1 e 2, 3 e 4. Questo è tutto per quanto riguarda il passo ciaccia. Alla prossima, ciao ragazzi!